Oggi abbiamo ascoltato e ascolteremo molti modi diversi in cui un essere umano decide e sceglie di prendersi cura di qualcosa. Non è una questione di poco conto e il racconto di Silvia che abbiamo appena ascoltato penso che non lasci più dubbio a nessuno. E non è di poco conto perché significa entrare in contatto con la nostra identità, con chi siamo. La cura però è anche sempre un'azione, una relazione, un andare verso qualcosa a qualcuno. Cos'altro infatti dovrebbe fare la cura? E queste sono quelle azioni che quando sono autentiche, ci mettono davvero in contatto con chi siamo e ci permettono di entrare in relazione positiva con noi, con gli altri, con il mondo. Sono quelle azioni che generano un'esperienza di cura. Ma per capire che cos'è un'esperienza di cura dobbiamo capire che come è fatta. E io ho individuato tre elementi. Il primo, le condizioni in cui può verificarsi. Il secondo, le occasioni che la generano. E il terzo, la responsabilità di chi la agisce. L'ho imparato da designer e progettista di servizi incontrando in questi anni molti insegnanti e genitori di bambini delle scuole primarie d'Italia e ascoltando chi si occupa di processi educativi da esperto. E oggi so che qui sono in un luogo sacco dell'educazione ma mi prendo il rischio di parlarne da questo punto di vista perché penso che la formazione di un essere umano sia una delle esperienze in cui la cura si rivela con più forza e con più evidenza. Ne parlerò appunto da designer, da progettista di servizi. E questo è il mestiere che faccio, il Logotel, dove ogni giorno seguo community che connettono più di centomila persone, le supportano nel loro mestiere. I mestieri più diversi, certo, ma sempre persone. Persone con i loro bisogni, persone con i desideri, persone con le paure, con le loro ansie. E da qui l'idea con cui ho lavorato insieme a un gruppo di persone di Intesa San Paolo per applicare il design come insieme di metodologie che mettono al centro le persone e la loro comunità per progettare servizi in grado di migliorarne la vita, di generare un impatto positivo. E da qui che è nato WeBecome e l'idea di cui vi sto parlando, cioè che la cosa più importante e più preziosa di cui possiamo prenderci cura sono innanzitutto le nostre azioni, quelle autentiche. Dicevo il primo elemento dell'esperienza di cura che genera queste azioni, che sono le condizioni. Ad una persona che ho incontrato in questi anni nel progettare e realizzare questo progetto ho chiesto di spiegarmi qual è il suo mestiere d'esperto di processi educativi. E lui mi ha detto, sai Simone, io spesso mi metto a fianco delle persone, le osservo, guardo come si muovono nel mondo, che direzione stanno cercando di prendere. E spesso mi ritrovo ad aiutarli facendoli riflettere sulle condizioni di partenza, che spesso sono date e non sono quelle che vorrebbero, o perlomeno non sempre. Ma come adulti, quando funzioniamo bene, cerchiamo il modo di accomodare le nostre azioni rispetto a quelle condizioni. Ma i bambini? I bambini vanno aiutati a farlo. Cosa succede infatti se le condizioni di partenza sono sbagliate proprio quando iniziano il loro percorso di ricerca e di scoperta di chi sono? Gli insegnanti che ho incontrato mi hanno raccontato di molte storie di solitudine, di disagio, di abbandono, che sono sempre storie di relazioni che non funzionano. Relazioni di un bambino con se stesso, di un bambino con la famiglia o con gli altri, relazioni di un bambino con il cibo per esempio, o relazioni di un bambino con uno smartphone o con un computer. Ecco che ho capito quindi che da designer la prima cosa che dovevo fare era mettere genitori e insegnanti nelle condizioni di riconoscere queste interruzioni e di aiutarli a ristabilire le condizioni in cui possono verificarsi invece quelle relazioni e quelle azioni autentiche che aiutano i bambini nel loro percorso di crescita. È nata così una piattaforma, appunto WeBecome, che è un servizio, una piattaforma gratuita, disponibile per tutte le scuole d'Italia, che mette a disposizione di insegnanti e genitori una serie di strumenti educativi per aiutarli nel contrastare e prevenire i disagi sociali delle giovani generazioni e aiutarli a sviluppare le competenze trasversali. Questa piattaforma comprende otto percorsi tematici, ciascuno focalizzato su uno specifico bisogno o su una specifica forma di disagio, ma sempre in una logica positiva, perché l'obiettivo è quello di ristabilire le condizioni in cui un disagio non può verificarsi. Quindi per esempio per educare i bambini a nutrirsi bene bisogna lavorare sul concetto di gusto, sul valore del gusto. Per prevenire il bullismo bisogna farli riflettere sul valore di stare bene insieme. Per valorizzare la diversità bisogna invece lavorare sull'unicità. Quindi c'è sempre un approccio positivo che punta a ristabilire le condizioni buone di partenza, perché la cura, e questo è il primo passaggio che voglio fare con voi, non ammette generalizzazioni, ma si tratta di riconoscere ogni singolo bambino e ristabilire le condizioni di crescita che sono buone per lui. Ma le condizioni da sole non bastano, bisogna generare delle occasioni in cui ci si apre all'inaspettato, in cui può accadere qualcosa di nuovo. E veniamo qui al secondo elemento dell'esperienza di cura, cioè le occasioni. Io sono sicuro che come adulti tutti se guardiamo indietro nella nostra vita sappiamo riconoscere quelle traiettorie che ci hanno portato a riconoscere le occasioni che per noi sono buone, le occasioni che per noi sono un'esperienza di cura. Ma un bambino? Un bambino va aiutato a farlo. Molti insegnanti mi hanno raccontato storie bellissime di bambini capaci di trasformare le candele in stelle, di vedere il mare nella fotografia di una donna, di trasformare la sabbia in oro, di trasformare i talenti in una vela per prendere il largo nel mare della vita. Ma queste occasioni che gli insegnanti pensavano, hanno pensato per loro, occasioni di dialogo, di gioco, di incontro, di conversazioni non erano nate per caso, ma nascevano da un'intenzione ben precisa. Quindi abbiamo capito che per essere di aiuto anche in questo aspetto a insegnanti e genitori dovevamo inserire nei percorsi tematici anche degli strumenti per supportarli nel generare queste occasioni di crescita positiva. Ora il progetto che abbiamo realizzato non è un insieme di ricette, non è un manuale, non c'è una soluzione buona per tutte le stagioni e per ogni bambino, ma si tratta piuttosto di un generatore di occasioni in cui esperienze di cura si possono verificare, lasciando ad insegnanti e genitori la responsabilità di capire qual è l'elemento giusto per quel bambino, quella classe, in quella situazione. E veniamo così al terzo elemento dell'esperienza di cura, cioè la responsabilità. L'esperienza di cura ha bisogno di un'intenzione per accadere, una volontà ben precisa, bisogna essere liberi di farlo e bisogna cercare l'occasione. Un antropologo che ho incontrato in questi anni mi ha raccontato la favola di Gino su cura. Cura inizialmente era una dea, un giorno mentre attraversava il fiume raccolse del fango cretoso, gli diede una forma senza sapere bene quale e intenta capire che cosa avesse creato invocò Giove perché infondesse in quella forma uno spirito. Giove acconsentì e infuse lo spirito e pretese però di dare anche un nome a quella creatura, ma cura che per prima ne aveva avuto idea di quel nuovo essere pretese invece di avere il diritto per sé di scegliere quel nome. Intervenne anche la terra perché della sua materia era fatto quel corpo. Nell'acqua è una disputa, spesso fra dei accade, e i due lanti elessero Saturno a giudice e Saturno decretò che Giove avrebbe accolto lo spirito di quella creatura. Il corpo, la terra, quella creatura era homo perché è fatto di humus, cioè fatto di terra, ma sarà cura ad averne la responsabilità finché quell'essere rimarrà in vita. Ora quando parlo di esperienza di cura e di azioni autentiche non mi riferisco evidentemente a imparare qualcosa di nuovo o imparare a fare qualcosa di nuovo, cosa che eppure i bambini fanno sempre ma e tutti noi del resto ma, mi riferisco piuttosto ad un'esperienza decisiva, un'esperienza potentissima in cui ci si apre alla scoperta appunto dell'inaspettato per capire chi c'è nel gioco, chi è l'identità che si sta rivelando. Ma per generare questa esperienza occorrono tre elementi chiave, le condizioni in cui può verificarsi, le occasioni che la generano e la responsabilità di chi la intraprende. Guardate sebbene che cura non ammette nascondigli, è una dea, ti chiama per nome, ti viene a stanare. Uibikame è stata la mia risposta, la tua qual è? Grazie.